La crisi in Grecia fa molto male al credito agricole. Il gruppo finanziario francese ha infatti ceduto Emporiki Bank al prezzo simbolico di 1 euro ad Alfa Bank. L'istituto greco era stato acquistato dai francesi nel 2006 per 2,2 miliardi. Ora il credito agricole stima che la velva della controllata ellenica comporterà una riduzione dell'ultimo netto nel terzo trimestre di circa 2 miliardi di euro. In base ai termini del contratto i francesi dovranno iniettare ulteriori fondi in Emporiki per 550 milioni di euro a copertura delle sofferenze finanziarie.